buongiorno un buon agosto siamo 7 agosto 2021 siamo dal nostro mimmo contadino chilometri zero della costa ionica catanzarese e niente abbiamo dato un'occhiata al suo giardino sorto che non ha più le quantità di pomodori come prima perché ormai il caldo ha fatto diciamo il ciclo la strage una strage comunque comunque voglio dire ancora qualche cosa si 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 vede si note diciamo molto molti molti diciamo peperoni qualche malanzane diciamo i nostri ortaggi tradizionali diciamo di calabria e sui pomodori che qualità avete quelli pomodori perché vedo qualità che non hanno tutti qua io c'ho prima di tutto una qualità già da trent'anni che non ha porto indietro un pomodoro che lo chiamavano a valigia un pomodoro polposo con la pelle molto finissima come una cipolla il velo di cipolle un pomodoro speciale per insalata per fare quattro spaghetti ai spaghetti speciale speciale poi abbiamo un pomodoro san marzano il classico san marzano poi quest'anno sono riuscito a ricavare una dodicina di piantine di quel pomodoro san marzano di una vecchia data veramente vecchia che noi all'epoca lo chiamavamo pomodoro a campanello ed è un pomodoro san marzano un pomodoro autoctone nella zona si proprio vecchissimo vecchissimo che veniva coltivato in calabria 50 anni fa e questo si presta diciamo per le conserve per fare anche anche per insalate anche buono per per seccarlo pure? per seccarlo è magnifico perché dentro è piuttosto vuoto e noto pieno si sente bene il sole è dolcissimo buonissimo pomodoro non lo conoscevamo questo tipo di qualità bisogna fare una ricerca e vedere un attimino da dove proviene questo ce l'aveva mia mamma buonanima quando ero bambino solo questo pomodoro quindi più di 50 anni fa e quest'anno sono riuscito tramite un amico a trovare di nuovo queste qualità questo pomodoro ecco quest'anno diciamo ho visto un po forse magari sbaglierò io i peperoncini sono un po' indietro con la motorazione? no 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 e sono giusto diciamo quel periodo? sì 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 perché il peperoncino piccante dipende quando uno lo trapianta certo certo sono tanti fattori quest'anno aprile è stato un mese un po' freddo sì sì praticamente gli ortaggi sono andati un po' hanno seguito diciamo la temperatura diciamo l'umidità quant'altro ho visto lì cinque mucchietti di stabbi di pecore mi pare quello è stabbi di pecore in dialetto come si chiama? in dialetto li chiamiamo cortaglia è stabbio secco di pecora che è mischiato con la paglia mi pare c'è un po' di paglia pochissima paglia quello diciamo per il concime naturale per il suo orto si si è un concime no non è concime non c'è concime che può superare questa questa cosa e la migliore cosa è lo stabbio lo stabbio io da bambino noi avevamo all'epoca le vacche avevamo le mucche che facciavamo insomma avevamo tutto l'orto noi lo facevamo all'epoca solamente con lo stabbio stabbio di mucche di pecore di quello che c'era non c'è nessun tipo di concime chimico anche le piante voglio dire assorbendo dal terreno questo concime naturale questo stabbio ne hanno di vantaggio si tutto tutto perché lo stabbio è il miglior concime che esista in generale poi è naturale voglio dire poi è naturale degli animali dalle pecore di questa roba qua e ho visto infatti notavo questa cosa che preparate diciamo per la prossima per la prossima stagione per la prossima stagione si 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 e niente ho visto lì ho visto qualche zucca anche quelle grosse si una zucca quelle sono zucche zucca proprio da mangiare si zucca per ottimi risotti non è zucchina è zucca proprio zucca per fare sì per fare un bel risotto quindi dall'orso tanti tipi di ortaggi che si possono ricavare si 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 comunque il top del top secondo me sono i datterini e anche i datterini i datterini quelli sono una specialità dolcissimi sembrano delle caramelle dolci proprio si si legano bene con dei spaghettini con peperoncini e basilico oppure una bella pezzaiola o una pezzaiola pure una pezzaiola e per quanto riguarda invece il discorso delle galline questo è molto caldo si le galline soffrono soffrono si è un animale che soffre con questa temperatura alta lo stanno anzi io ritengo ho fatto un pergolito c'è una pergola che le fa ombra c'ho una pianta d'olivo abbastanza grande che loro stanno là sotto al fresco ecco perché sennò il sole è una rovina abbiamo visto dell'uova per vino diciamo da mosto si ma quello che produce il vino le anche si lo faccio anche faccio un pochettino di vino per me per gli amici e niente vino bianco vino bianco ho visto che c'è uva tutta bianca questa è tutta bianca poi faccio anche un pochettino di vino rosso che c'è anche un po' di uva rossa la parte di sopra dell'orto diciamo l'ho visto l'ho visto e facciamo un po' di no comunque no ho visto che l'uva però ho visto un tipo in una vite che c'era dell'uva macchiettata e chi la sa 4-5 grappoli erano 4-5 grappoli chi sa che cosa non lo so la natura purtroppo vuole così la prima volta che vedo dell'uva macchiettata di nero anche io non ho mai visto questa cosa qua non lo so perché perché purtroppo ogni cosa ci sembra la prima volta abbiamo visto pure ancora che ci sono delle belle pannocchie quelle sono sempre ricercate le pannocchie sì sì abbastanza vengono consumati anche nei negozi di ortofrutto si vedono è un mais dolce proprio buonissimo ottimo ottimo e insomma un po' di tutto qua tra i peperoncini il mais quattro zucchine i peperoni l'uva sta andando avanti sì e ho visto anche le piante d'olivo che le olive sono già verdi sì sì abbastanza belle sono diciamo al periodo giusto sì e mi pare di capire che quest'anno la produzione sarà medio alta penso sì diciamo che non l'ha vista diciamo sovraccariche però sono normali sì sì sta bene sta bene così diciamo contenti dai contenti però male che pure loro voglio dire sì sì e niente io da parte mia vi saluto insieme a Mimmo dalla costa ionica catanzarese che come al solito ci ospita e ci delizia di prodotti speciali perché sono speciali a chilometri zero natural biologici senza pesticidi eh niente niente senza veleni no 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 l'unico concime naturale è lo stabio di pegola lo stabio ecco non c'è altro sì non c'è altro quindi meno quantità ma tanta qualità è la qualità e quindi per la salute di ognuno di noi si combattono tante tante situazioni negative sull'alimentazione tenendo un'agricoltura sana l'agricoltura naturale naturale bio e noi da questo orto